musica e qui va a so chi già non va a andare non vi occorre e non vi c'è non vi fuzze la mia vita, non sono mai più giù la mamma e si non sono mai più giù la mamma e si sono già giornalisti non si non si sapeva, non si sapeva quella della mia famiglia, non si sapeva questa cosa, non si sapeva magari Sì, come si. Come si minta che ci fuori, come sono lei di verevano Come si sa? Si, come vanno a questa qua? Vanno a cercare se non so per me non so che nel piano vedto a venire. Se pendeppi e per me rispondere che grazie Grazie a tutti.